In questo livello dobbiamo allungare il nostro collo il più possibile prendendo questi anelli fantastici Andiamo, prendiamo tutti gli anelli blu perché siamo blu in questo momento, evitiamo le trappole Adesso che siamo arancioni cominciamo a prendere quelli arancioni, non prendiamo quelli verdi perché dopo non riusciamo più Oh, che sta succedendo? Non riusciamo più ad allungare il nostro collo Wow, stiamo allungando tantissimo la nostra testa e il collo è lunghissimo Oh, attenzione! Probabilmente riusciamo a superare il livello Oh mio Dio, più di un dinosauro, più della cosa di Pasqua, più della Sfinge No, abbiamo superato una piramide, non ci credo, lascia un mi piace e iscriviti al canale